Allora, ci sono due modi molto diversi di cercare i pazienti positivi. Un metodo è quello sierologico. Sierologico vuol dire che tu nel siero del paziente, la parte non corpuscolata del sangue, cerchi gli anticorpi. Gli anticorpi li fai un pochino tempo dopo che tu hai subito l'infezione e fai un certo tipo di anticorpi che si chiamano IgM e quando finisce l'infezione questi anticorpi IgM li perdi e produci gli anticorpi IgG. Tu li cerchi tutti e due e questo ti permette di capire se il paziente ha un'infezione in atto perché ha gli anticorpi IgM o se ha avuto la malattia ed è già guarito e ha gli anticorpi IgG che per di più spesso, ma non per tutte le malattie, ti danno anche immunità. Per cui se tu non hai più l'IgM e hai l'IgG, sai che per certe malattie puoi andare in mezzo ai malati e non rischi di prendertela. Questo tipo di esami ha due problemi. Uno è che ha un periodo finestra. Quando tu prendi l'infezione non sviluppi subito gli anticorpi. Quindi c'è un periodo in cui tu sei infettivo e l'esame di laboratorio ti dice che tu non lo sei e questo è molto pericoloso. Questo avviene ad esempio per il test classico dell'HIV. Il test classico dell'HIV è una ricerca anticorpale e ha un periodo finestra abbastanza lungo. Tu con gli ultimi test 15-20 giorni, con i primi test di un tempo avevi fino a 45 giorni in cui tu non sapevi e magari avevi avuto il contatto a rischio e dovevi stare lì ad aspettare per capire se eri infetto o no. Il secondo problema in questo momento è che il test sierologico non esiste. Cioè esiste le ditte che lo preparano, che studiano questo tipo di test, hanno iniziato a studiarli e a tirarli fuori, ma non sono ancora validati. Un test per essere utilizzato sulla popolazione, sia per fare screening di massa, sia per prendere delle decisioni terapeutiche o di strategia su un singolo paziente, ti deve dare due parametri. Ti deve dire quanto è bravo a capire se ce l'hai la malattia e quanto è bravo a capire a escludere che tu ce l'abbia, a dirti che non ce l'hai. E questi parametri si chiamano sensibilità e specificità. O se vogliamo vederla al contrario, il numero di falsi positivi e il numero di falsi negativi rispetto alla totalità degli esami che fai. Questo ovviamente, per sapere questi due parametri, devi studiare questi esami, farli a delle, tra virgolette, cavi, a delle persone di cui tu sconosci lo stato di effettiva malattia o non malattia, e puoi fare delle statistiche. Questo richiede del tempo. E questo tempo sta trascorrendo. Sono usciti i primi esami, ci sono, ma non sono validati. Per cui non valgono niente. Nel momento in cui tu ce l'hai e sai che sei positivo, sai che sei negativo, non sai che margini di errore puoi averli. E questi margini di errore, finché non sono stati studiati, possono essere, sinceramente, variare dal 20% all'80%. Per cui capite bene che per prendere delle decisioni di tipo terapeutico, oppure delle decisioni di tipo sto in quarantena, oppure no, valgono veramente pochissimo. Quello che c'è, invece, è l'altro tipo di esame. L'altro tipo di esame è, tra virgolette, molto più semplice, anche se in realtà molto più difficile. Che cos'è sto video? Per favore, avete chiesto lo spiegone serio? Io faccio il serio, ma tu non mi puoi mettere i video con la phone. Non so, non volevo. Che film è quello lì? Fantastico. Che film è? Ben Hill. Ah, Ben Hill. Pensavo fosse uno di quei film, sai, con la Fennec che fa l'infermiera. Ma siamo lì. Immagino. Metti pure il video collettivo, per piacere, che mi fai sentire un po' a disagio con questa cosa. No, no, va bene, prego, prego. Continui. E l'altro esame più facile concettualmente, più diretto, ma più difficile dal punto di vista tecnologico, è la ricerca vera e propria del virus. Cioè non vado a cercare se tu hai gli anticorpi di un tipo o dell'altro. Vado a vedere proprio se in gola c'hai sto cacchio di virus. Per capire se in gola c'hai sto cacchio di virus, devo fare un test molecolare. Cioè prenderti un prelievo dalla gola e vedere se c'è il virus. Il virus, dico cosa hai fatto, principalmente di RNA, per cui io vado a farti un tampone in gola, lo metto dentro a questa macchina che amplifica il DNA insieme a una sonda che fa amplificare solo il DNA del virus e riesco a dirti se in gola c'hai il virus o meno. Ok. Il test validato, abbastanza bene, 80-85% secondo qualcuno, è la ricerca del virus in gola, del RNA. Ma ce n'è pochissimi. Ce n'è pochissimi, è un test più costoso, richiede delle macchine abbastanza sofisticate, ce n'è poche, c'è poco personale, rispetto alla quantità di infezioni che stiamo vedendo in questo momento e quindi questo è molto, molto, molto limitato. È il tampone. Ed è l'unico che può dire a te o al giocatore della Juventus tu sei libero di andare in mezzo alla comunità e non sei molto probabilmente in grado di trasmettere la malattia. Quello che sta proponendo il laboratorio di Albaro è il test sierologico. È quello che potete fare anche voi. Andate su internet, li comprate, non so in che lotti li vendano, ma costa 9 euro, 10 euro. Ne parlavamo ieri proprio con altri medici su una chat di WhatsApp. Test molto semplici, molto economici, che si fanno in pochissimo tempo, basta metterci poche goccioline di sangue sopra e in pochissimo tempo si vede se hai o meno gli anticorpi. I laboratori questi ce li hanno, ma non hanno nessuna validazione. Per cui di fatto, di fatto, in questo momento servono a niente. Cioè, oh, avete la tosse, avete la febbre, avete magari anche un po' di spnea, siete stati a contatto oggi, se vivi a Milano, dire non sono stato a contatto con uno positivo è quasi impossibile. Vabbè, se volete andate a laboratorio o meglio, ci mandate qualcuno col vostro sangue e fate questo test per vedere se. Ma, sinceramente, in questo momento, se avete la febbre e la tosse, specialmente se vivete Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, considerate di avere il coronavirus. Se avete sintomi solo così, in forma molto leggera, estatevene quarantenati. Comunicatelo al vostro medico di famiglia, se poi avranno abbastanza tamponi, verranno a farvelo. Quel test lì, fatto in laboratorio, lascia un pochino il tempo che trova, finché non viene validato. Ma lo dice lo stesso laboratorio Albaro sulla sua pagina Facebook, l'ho aperta adesso, e dice test per la ricerca di anticorpi. ringraziando tutti per l'interesse, teniamo a precisare che viene effettuato esclusivamente presso strutture pubbliche il tampone, e che noi invece eseguiamo il test per la ricerca degli anticorpi. Il prelievo su appuntamento e cose del genere. Sì, non spiegano il fatto che il test non è ancora validato, a meno che non l'abbiano validato nelle ultime sei ore, perché da oggi pomeriggio non ho più letto niente al riguardo, ma fino a questa mattina sicuramente il test non c'era. E sarà la svolta, perché quel test lì, nel momento in cui è validato, ed è validato con delle percentuali serie, ci permetterà non solo di utilizzare il social distancing come strumento efficace, ma la vera conoscenza a tappeto della popolazione. Quanti hanno già fatto la malattia e sono immuni, per cui gli permetterà di andare a lavorare senza rischio di infettarsi. Soprattutto una volta c'è indicata l'immunità. Eh, certo, certo, ma ci permetterà di capire se è veramente queste statistiche vere a mortalità, se veramente in Lombardia è più alta che ad esempio in Germania, perché oggi c'è un ordine di grandezza, di differenza, è abissale, ma sono statistiche fatte su numeri che non sono affidabili. Ma sì, continuano a misurare le pere con le banane, non hanno nessun senso. E quindi sono test economici che si possono fare a tappeto, eccetera, quindi quello lì sarà veramente il punto di svolta se arriveranno in tempi utili. Speriamo che arrivino presto e speriamo che comunque le misure che stiamo adottando adesso vadano così velocemente verso l'efficacia, dimostri un lavoro efficace. Ecco.